Ciao, sono la dottoressa Dora, ai capelli secchi oppure tendenti al crespo. Oggi ti spiego come preparare una maschera ai semi di lino. Perché ho scelto i semi di lino? Perché sono ricchi di omega 3, vitamine del gruppo B, vitamina E, quindi tutte sostanze capaci di idratare, nutrire, rigenerare i capelli, oltre che ridurre l'effetto crespo. Cosa ti occorre per preparare questa maschera? Un litro d'acqua, un cucchiaio di semi di lino e un limone. Metti a bollire l'acqua, una volta raggiunto l'ebollizione, aggiungi i semi di lino e fai bollire per altri 2 o 3 minuti. Dopodiché, una volta raffreddata, filtra l'acqua che hai ottenuto ed aggiungi 2 o 3 cucchiai di succo di limone. Potrai utilizzare questa maschera, l'acqua di semi di lino, ogni volta dopo aver lavato i capelli, quindi per esempio nel momento in cui dovrai pettinarli e poi applicarla in questo caso dalla radice fino alle punte. Oppure puoi utilizzarla tutte le sere prima di andare a dormire. Ovviamente trattandosi di una maschera completamente naturale, quindi fatta in casa, priva di conservanti, dovrai fare attenzione a conservarla in un contenitore chiuso ermeticamente e dovrai ricordarti di metterla sempre in frigorifero. Potrai utilizzarla per circa una settimana, massimo 10 giorni. Grazie, Farmacia Labbrozzi ci sta a cuore la tua bellezza!